dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di fibrosi cistica fibrosi cistica che non altro che una malattia genetica da come dicono i medici che nasce da quando nasce l'essere umano sulla terra quando viene concepito ora ci sono casi nel mondo risolti o che hanno utilizzato l'ipnosi vera e professionale anche per l'ipnosi la fibrosi cistica non credere al sottoscritto la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi per cui se le hai provate tutte stai continuando a provarle tutte ben ci sta però se metti ipnosi più terapia tradizionale medicina tradizionale non guasta per cui vai presso un professionista e l'ipnosi vera e professionale della tua zona ti siedi parli di documenti naturalmente l'importante non sia ignorante in materia di ipnosi perché l'ipnosi ripeto riconosciuta dall'associazione medica mondiale come medicina alternativa nel 1958 dalla chiesa con papa pio non nel 1847 quindi a tutti i santi crismi per essere accettata dalle persone di buona volontà e anche se tu hai conseguito questa malattia della fibrosi cistica da quando sei nata ricordati che tutto deriva dalle emozioni e quando abbiamo tre mesi nella pancia della mamma come dice la scienza il cervello è formato inizia a registrare come una scatola nera di un aereo per cui anche quelle emozioni anche se tu non sei consapevole ma il tuo subconsciente lo è ti può aiutare a risolvere il problema perché nel tuo subconscio sono le cause e le soluzioni ok non credere al sottoscritto documentati approfondisci visita le riviste scientifiche internazionale l'anset life e credi in te stesso nel potere della tua mente visita la mia fan page ipnosi al dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.impronologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesso il dottor claudio sera saracino e faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel qui che gli cambia la vita e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dice essere dottor claudio saracino come ripeto spesso non credere nessuna parola mia documentati ma sappi che ci sono casi veramente scientifici risolti di fibrosi cistica con l'ipnosi o migliorati più dell'ottanta per cento un bacino abbraccio al prossimo video